Rocca Ravindola, 17 maggio 2017, festa oggi San Pasquale Bailon, festa solenne in Cerasuolo, San Pasquale patrono di Cerasuola. Il 13 maggio abbiamo completato il ciclo di questi quadri mai olicati. Abbiamo apposto il quadro della Madonna dell'apparizione di Castelpetroso, dedicato proprio nel giorno dell'apparizione di Fatima, perché tutto è collegato. Sono le apparizioni contemporanee della Vergine Maria. Prima la deposizione, la Madonna, la pietà, con la deposizione di Gesù. Poi la Madonna del Purgatorio, la Madonna del Carmine. E poi la Madonna di Castelpetroso. Insistiamo su Castelpetroso sia sulla pietà che sull'apparizione diretta a Bibiana, perché l'apparizione di Castelpetroso, della patrona del Molise, dichiarata tale il 6 dicembre 1973 da Paolo VI, è poco sentita nella nostra terra. Si va a Fatima, si va molto a Meggiugorie e a Lourdes, ma si ignora quasi del tutto l'apparizione di Castelpetroso. E allora io, parroco, Don Giuliano Lilli di questa comunità di Rocca Ravindola, ho ritenuto opportuno in questo 2017 di collocare nella parte nuova l'apparizione di Fatima e la deposizione di Gesù. E in questa parte vetusta ho voluto insistere sull'apparizione di Castelpetroso, perché se la Madonna è apparsa qui, la Madonna di Castelpetroso vuole essere venerata innanzitutto da noi qui e poi dagli altri. Quindi ho insistito sull'apparizione qui in casa a Castelpetroso. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda tessi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Anima e abbiate, go pastemun siete passate, in paradiso vi trovate, preate nostro Signore per tutti i nostri peccati. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda tessi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.